Stavo pensando a tutti quei terrazzi che si trovano in città oppure anche nelle periferie, sai quelle campagne un po' periferiche, un po' urbane che non si capisce benissimo cosa sono, dove ci sono quei vasi con le piante che però sono morte e quindi poi lasciano spazio a una selvaggia serie di piante spontanee, più o meno autoctone, che trasformano quei vasi in una specie di deserto stranamente tenuto. Io sono Francesco Cecchetti e questo è Giardino Rivelato, podcast dedicato all'arte dei giardini e oggi palesemente ci concentriamo su un aspetto che è legato un po' al gusto che abbiamo dei giardini perché, come dire, ci sono giardini che ci piacciono, giardini che non ci piacciono, ci sono giardini fatti da professionisti, giardini fatti da amatori, giardini fatti da persone che proprio non hanno alcun senso del giardino, si può dire, sì, nessun senso di queste tecniche che servono per far crescere un giardino. E anche là poi si può dividere, esistono giardini fatti da persone che non hanno queste conoscenze, che sono molto, molto, molto ordinati e brutti, e poi ci sono giardini che non hanno queste conoscenze, che sono molto, molto disordinati e contemporaneamente sempre brutti. Quindi ora io faccio rientrare in questo senso questa categoria in un modo che è distinta da quello degli amatori. Di solito gli amatori sono, come dire, appunto delle persone che non fanno un qualcosa per professione ma comunque hanno una conoscenza approfondita. Invece no, io ci voglio mettere anche persone che non hanno una conoscenza approfondita ma amano quello che fanno, quindi proprio mi vado a soffermare sull'amare. Ci sono degli amatori che probabilmente sono più bravi di molti professionisti e questo qui non dovrebbe stupire nessuno, semplicemente non lo fanno per professione appunto. Però le persone che fanno, si occupano del giardino magari e lo fanno solo per senso del dovere, senza alcun desiderio di trarci nulla di interessante, di solito hanno un giardino molto ordinato perché richiede meno lavoro oppure molto disordinato perché così lavorano meno. Sono due facce della stessa medaglia e questo si può vedere anche sui terrazzi. Quando io non ho tempo di curare le piante, spesso quelle piante muoiono e allora che cosa ho? Dei vasi o quelle cassettine rettangolari dove magari avevo messo le piante di peperoncino o le piante di basilico, il basilico muore perché è inverno e allora ho questa sorta di crete senesi all'interno del vaso e poi da un lato invece c'è un'ortica che è spuntata e poi un filo di erba all'altro angolo. Insomma è una cosa non proprio bella da vedere, non proprio edificante. Non ti fa nemmeno venire voglia di metterci mano perché tu dici ecco questo vaso è stato distrutto e adesso questa pianta è morta e perché devo rimettermi? Perché devo mettermi a lavorare di nuovo su questo fallimento? Ecco tutto lavoro e nessuna soddisfazione perché c'è quella persona che le piante le fa crescere? E allora io mi dico ma non avrebbe più senso prendere una zolla di terra e andarla a infilare nel vaso? Quella è una cosa che ecco io non ho un balcone per esempio quindi è una cosa che ho fatto quando ho cominciato a realizzare i primi giardini da tavolo portavo queste zolle di terra prese sotto casa dove c'era appunto un pezzo di prato quindi margheritine, gerani, tutte queste piante che crescono e le avevo messe sulla mia scrivania ovviamente non sono piante che amano stare al chiuso in una stanza per quanto luminosa è diverso rispetto a una pianta che invece è più adatta a crescere in un ambiente artificiale quindi quello che puoi fare è se conosci qualcuno che ha ad esempio un terreno con un prato chiedergli se può darti un pezzettino di terra per riempire questo vaso e questo in qualche modo può cambiare il tuo rapporto con la cura delle piante è come dare un input per interessarti di più a quello che succede in un vaso non hai più un'unica pianta sulla quale ci sono tante guide in rete per prendersene cura no hai un pezzo di prato un pezzo di prato magari spontaneo è più bello rispetto a un pratino verde un monospecie hai un sistema un po più complesso del quale ti può interessare oppure no e vedere se riesce a sopravvivere oppure no secondo me è una cosa interessante perché può rompere un incantesimo può aiutarti a spezzare una catena che magari ti faceva vedere la pianta singola all'interno del vaso oppure appunto le più piante di peperoncino all'interno del vaso o più piante di gerani all'interno del vaso di pelargoni o di violette che ti deprimevano perché magari non riuscivi a gestirle bene beh questo è invece un esperimento interessante perché non ti senti in colpa nel caso in cui muoia almeno credo che non ti sentirai in colpa e allo stesso tempo hai portato un pezzettino di biodiversità di campagna di una cosa più interessante rispetto a una pianta singola soprattutto se non hai tempo di occupartene quindi facci un pensiero è una cosa che quando l'ho fatta mi ha molto divertita però per l'appunto non ho un balcone quindi non posso farlo osservo il prato sotto casa ma non è la stessa cosa che averlo in un vaso e può insomma questo può aiutarti a creare un nuovo tipo di relazione con le piante che tu ti ritrovi a gestire dentro il vaso e ovviamente questo poi si può fare anche per chi ha un giardino vero e proprio e non un terrazzo si può chiedere mi puoi dare un pezzettino di prato e andarlo a mettere a inserire all'interno del tuo prato per andare a contaminare quello che già hai magari è un prato seminato artificiale artificiale intendo proprio una monocoltivazione di quelli di dicondra che si usano nei prati delle case delle abilitazioni e questo può aiutare a renderlo un po' più movimentato magari avere delle chiazze di campagna all'interno del tuo prato che non richiedono una grande manutenzione però allo stesso tempo riescono a movimentare un po' quello spazio che tu vivi fuori dalla tua casa o sul tuo terrazzo o sul tuo balcone siamo arrivati alla fine di questo episodio avevo voglia di parlare di questa cosa perché in realtà mi è venuta ieri in mente nel post live che ho fatto su Twitch è stato molto divertente abbiamo letto un brano da un libro di Gertrude Jekyll oddio lo dico sempre male un epilogo al suo libro in cui lei parlava del perché si è appassionata di giardini quando da bambina si immaginava nel bosco delle primole lo vedeva come una prefigurazione del paradiso lo vedeva già come un paradiso in terra insomma un modo per vivere una vita eterna già qui sulla terra sperimentando le stagioni i fiori, i colori era una cosa molto bella e quindi pensando a questo bosco coperto di primule coperto di fiori mi sono detto certo però sarebbe bello portare ovunque dei prati fioriti che sono un po' la nostra idea di leggerezza di primavera di rapporto con il giardino e la natura spesso passano o dagli alberi o dai prati fioriti in quel caso entrambe le cose perché è un bosco di primule e perché non provare a farlo noi a casa nostra se ti è piaciuto questo episodio ti invito a lasciare un commento e a condividerlo con le persone che più ami e oppure con le persone che più odi come sempre se non ti è piaciuto ti invito anche a raggiungermi su giardinorivelato.it là ci sono tutti i modi per entrare in contatto sia attraverso i canali del podcast di youtube o attraverso il canale telegram dove arrivano tutti gli aggiornamenti e poi ovviamente ti ringrazio per aver fatto questa chiacchierata insieme e per aver passato del tempo così a parlare con la scusa dei giardini grazie a tutti